Il TSA investe sui giovani e sull'innovazione e lo fa con lo spettacolo Costellazioni che andrà in scena in prima assoluta questa sera alle ore 21 presso il ridotto del Teatro Comunale e domani pomeriggio alle 17.30. È veramente difficile poi sintetizzare uno spettacolo, no? Sabe un po' come parlare del Vangelo e cercare di fare una sinossi breve di quello. La storia di questi due personaggi è abbastanza in antitesi uno con l'altro. Lei è una fisica quantistica, lui è un apicoltore, quindi due mondi che si incontrano e poi la parte interessante oltre ad essere una commedia, ieri Marco la chiamava così per scherzo in modo un ossimoro, proprio una commedia tragica. La cosa interessante è appunto questo gioco sugli universi paralleli, cioè queste storie, situazioni che vanno avanti, si ripetono e continuano a ripetersi. Probabilmente fino all'infinito, diciamo, semplicemente può essere questo. Questa mattina nella conferenza di presentazione dello spettacolo, gli attori, registri e rappresentanti del TSA hanno presentato un'opera che in coproduzione con Cora Teatro porta sul palcoscenico l'aspetto innovativo e creativo che caratterizza la nuova stagione teatrale del TSA. Sono felicissima di essere in mezzo a questi due uomini meravigliosi con un testo nel quale credo tantissimo, un personaggio, il mio, che è molto bello e molto complicato, ma tutto il testo è complicato. Questo spettacolo mi ha fatto scoprire questa teoria dei mondi paralleli che non conoscevo assolutamente e nella quale credo fermamente adesso è la mia nuova religione e speriamo, insomma, speriamo di divertirci con tutti, soprattutto è uno spettacolo per i giovani, fatto con i giovani, scritto da un 32enne inglese e noi siamo tutti trentenni, quindi spero che arrivi molto ai giovani e che si sentano parte di questo. Il testo di un giovane drammaturgo inglese ha riscosso grande successo a Londra, dove è il primo dei cinque spettacoli più visti nella City ed è espressione dell'evoluzione del teatro contemporaneo. È stato ritornare, insomma, in quei posti dove con Stefano, appunto, con Chiantini abbiamo... ho cominciato a fare, insomma, questo lavoro. Posso dirti che è stato veramente difficile, appartiene proprio a una sfera privata e difficilmente riesco a comunicare quello che ho visto. Però ci sono venuto volentieri, forse anche per questo motivo, insomma, perché c'ero stato e perché in qualche modo l'Abruzzo è stata una piccola patria adottiva e in qualche modo mi ha sempre dato la possibilità di fare cose che in altri posti non riuscivo a fare, quindi è come se qui ci fosse un'energia diversa e anche una voglia di fare cose nuove. Succede qui più che in altre parti d'Italia, almeno per quanto mi riguarda. E questo è un momento di difficoltà per la cultura, ha detto il presidente del TSA Ezio Reinaldi, ma tuttavia è anche un momento di grande fermento per il teatro stabile d'Abruzzo, che sta girando in tutta Italia con gli spettacoli di Sirano e scene da un matrimonio. È un ente che sta attraversando sicuramente momenti difficili come la cultura in generale, ma che sta continuando a fare una politica del fare. Cioè la politica del fare significa continuare a far crescere, ripeto, non solo dei giovani, ma anche un pubblico e il pubblico cresce se siamo in grado di dare qualcosa di nuovo e qualcosa anche di diverso. E questo credo che voglia essere anche uno spettacolo diverso, con dei giovani che non sono sicuramente alle prime armi, anzi, ma lo stanno facendo con la loro passione.